Attenzione, c'è Rana che appoggia per Petrilli, azione d'attacco della Vigorla Vesa, siamo al 40esimo, finto il cross De Luca, nessuno gli va vicino, scarica su Giuffrida, avanza Giuffrida fuori. Guardare un apolo, un apolo a guardare. Palla su Rana, De Luca aggancia, attenzione, De Luca, la palla passa, Rana che da terra, rigore. L'apolo per rigore, uno sgamberto su Rana forse. Proteste dei giocatori ospiti, è stato steso Rana mentre stava per arrivare sul pallone, forse uno sgamberto, l'apolo era a pochissimi metri, noi siamo intorno ai 50 metri.